Ciao a tutti amici di A4 Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo un nuovo NAS della Tegu, stiamo parlando dell'N2310, è un NAS 2B, come vedete, e nel nostro 3S la configurazione è stata di 4TB in RAID 1. Parliamo subito delle dimensioni, abbiamo un'altezza di 135 mm, una larghezza di 97 mm e una profondità di 207 mm. All'interno troviamo una CPU, una MCC EPM86491 da 800 MHz e all'interno sempre troviamo, per quanto riguarda la parte della RAM, 512 MB di RAM DDR3, devo dire, davvero ben gestiti. E poi, come vedete, abbiamo l'ingresso di due slot SATA, potremo inserire sia due dischi da 3,5 o da due ponici e mezzo. Sulla parte frontale sono presenti i vari tasti funzionici, il tasto power qui sotto e poi una serie di LED indicazioni. In ordine, il tasto accensione, che è l'unico di colore blu, il tasto informazione, che ci dà le informazioni, naturalmente ci indica che c'è un problema sul nostro NAS, e quindi lampeggerà ed emetterà anche un suono. Abbiamo i LED dei due dischi, l'ingresso per quanto riguarda la rete, quindi il controllo della rete, e la connessione USB. Infatti, parlando di USB, nella parte posteriore abbiamo, naturalmente, una USB 3.0, una 2.0, una LAN 10-100, il tasto da reset e poi l'ingresso per l'alimentazione. Successivamente, vedete, nella parte posteriore abbiamo una ventola davvero molto piccola e efficiente, anche se pecca un po' di rumorosità rispetto ai predecessori, sempre della linea Tegus. Adesso andiamo a vedere la dashboard e, naturalmente, le funzionalità che troveremo all'interno. Il nostro Tegus N2310 dovremo collegarci, naturalmente, al sito della Tegus, caricare il software Intelligent NAS, e quindi dovremo, naturalmente, installarlo. È disponibile sia per Mac che per Windows. Questa è la schermata iniziale. Come vedete, all'inizio, naturalmente, avendo collegato il vostro NAS in rete, troverete subito il vostro NAS. E, naturalmente, se non lo trovate, potete effettuare un ripetiscansione e cercherà sulla vostra LAN il NAS N2310. Qui, in alto, come vedete, abbiamo le differenti lingue, comprese l'italiano. Successivamente, dovremo cliccare Avanti e, quindi, effettuare una veloce configurazione del RAID oppure creare una RAID manuale. In questo caso, utilizziamo... Conclusa la prima fase dell'isalazione, dovremo, naturalmente, entrare nella console di amministrazione. La password di default, in questo caso, è AdminAdmin e potremo entrare dentro il sistema TechosOS. Come vedete, abbiamo, per chi ci segue, abbiamo già visto quelle che sono le potenzialità del TechosOS. Per i nuovi, vediamo subito un overview generale. Come vedete, cliccando quest'icona, avremo un control panel con tutte le funzionalità. Quali informazioni? È stato il registri, la gestione di syslog, molto importante per la gestione degli errori che vengono poi scritti sul file system, essendo il Nest Techos gestito da un sistema in tutto e per tutto il mix. Poi abbiamo, naturalmente, le varie programmazioni di ascensione e spegnimento, la parte delle notifiche, la gestione della console, questa che vedete, per cambiare la password, gestire le differenti configurazioni, valori predefiniti e quanto altro. Quello che ci interessa, naturalmente, è la parte di archiviazione di disco, dove potremo andare a vedere le informazioni del nostro disco. Io, attualmente, ho due dischi da 75 GB in RAID 1, ma, naturalmente, potrei in ogni momento cambiare il RAID associato. Come vedete, in questa schermata potrò effettuare una modifica a quello che è l'attuale configurazione e poi, naturalmente, decidere se cambiare o rimuovere il RAID. Tornando indietro, naturalmente, poi abbiamo tutta la parte che riguarda la parte dei privilegi, quindi utenti e gruppi associati a determinate cartelle. I servizi di rete, come vedete, sono i più disparati, quelli più utilizzati, naturalmente, sono l'FTP, il Web Service e anche gli altri, per, ad esempio, il DNS, per la connessione esterna, l'SSH. Naturalmente, per ogni servizio basterà entrare all'interno, abilitarlo, in questo caso abilitiamo l'SSH, diamo OK. Le operazioni, come vedete, sono molto veloci, anche per chi non ha una grande dimistichezza è riportato, naturalmente, la console è tutta in italiano, tradotta in italiano, e quindi abbiamo facile accesso a quelle che sono le informazioni e potremo cambiare la configurazione, naturalmente, a seconda delle nostre esigenze. Torniamo indietro, abbiamo visto i servizi, che sono quelli di rete, poi abbiamo i servizi di applicazioni, questa parte la reputo davvero molto, molto interessante. Quello che dovremmo fare è, possiamo effettuare l'installazione di app, che possiamo prendere, vedete, direttamente dalla Tecos App Center, lo vediamo velocemente, vedete, ci sono 526 app che potete installare nel Tecos, davvero, davvero tantissime. Chiudiamo questa parte qui, naturalmente, una volta scaricata, potremo installarle direttamente, ma ci sono, naturalmente, anche le applicazioni della MS stesso. Come vedete, sono tutte queste che sono state riportate, naturalmente, ne potremo aggiungere altre. Per installare un'applicazione, ad esempio, la Dashboard per dispositivi mobili, infatti potrete utilizzare questo Fantastico OS sia in remoto che in locale, anche tramite un dispositivo Android OS. Per installare qualsiasi applicazione, come vedete, ho cliccato install, dovrò attendere che il processo venga completato e successivamente potrò procedere all'installazione di un'altra applicazione oppure all'aggiornamento della stessa. Tra le tre applicazioni potremo anche utilizzare questa MS direttamente con BitTorrent, con TransmissionKit, che è, nient'altro, un Client BitTorrent che funziona in automatico dando in pasto un URL di un determinato torrent ed effettua il download in automatico, naturalmente con differenti controlli, quindi un'amministrazione a sé stante. L'altra parte è quella del backup, come vedete, e potremo proteggere anche questi dati oppure, naturalmente, scriverli su un DVD. L'ultima parte è dedicata all'external device, quali la stampante oppure un sistema di OPS esterno. Ottima soluzione è questa della Tegos, con il NES N2310. Come avete visto, molte le potenzialità di questo NES di questa Tegos, potete utilizzare anche la parte del dispositivo mobile e gestirlo a 360 gradi. Se avete domande oppure volete del supporto inerente a questo Tegos, potete iscriverci sul nostro forum. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!